ATM entra nella fase 3 dopo l'ultimo decreto approvato dalla Presidenza del Consiglio che determina la possibilità di riempire autobus, metro e bus fino all'80% della loro massima capienza. L'azienda di trasporto pubblico milanese presenta così il nuovo piano d'azione in vista soprattutto di un notevole aumento dei flussi di passeggeri previsto già da lunedì 14 settembre con la ripresa di tutte le scuole. Per una migliore gestione dei mezzi e per evitare sovraffollamenti ATM si avvalerà anche della tecnologia. Sull'app dell'azienda i passeggeri potranno d'ora in poi consultare l'affluenza in tutte le 113 stazioni della metro secondo le diverse fasce d'orario e pianificare al meglio i propri spostamenti. Un algoritmo elabora infatti i dati sull'andamento dei flussi e fornisce una previsione costantemente aggiornata del grado di frequentazione delle stazioni. Inoltre saranno progressivamente rimossi all'interno dei veicoli sia gli adesivi dei posti a sedere che tornano ad essere tutti utilizzabili sia i marker rossi state qui a bordo di treni, bus, tram e filobus. Resteranno invece i marker rossi in tutte le zone di attesa così come rimarrà la segnaletica dei percorsi guidati nelle stazioni per indirizzare i flussi in entrata ed uscita nei corridoi e negli snodi di interscambio. In metropolitana poi saranno ricalibrati i sistemi di conteggio automatico dei passeggeri ai tornelli portando alla capienza massima non oltre l'80% e ove sarà necessario, vale a dire nel caso in cui il numero di passeggeri dovesse superare la soglia prevista, gli ingressi saranno contingentati con la chiusura temporanea dei tornelli. In superficie invece in caso di raggiungimento della capacità massima del mezzo il conducente inviterà con annunci sonori gli ultimi passeggeri saliti a scendere e ad attendere il mezzo successivo. In ogni caso in situazione di necessità il conducente sempre in costante collegamento con la sala operativa ATM potrà chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Nuovi interventi di sanificazione inoltre si aggiungono al piano straordinario che ATM ha messo in atto fin dall'inizio dell'emergenza che già prevede una sanificazione quotidiana. Queste azioni vengono così riforzate con attività di igienizzazione dei mezzi anche durante il giorno. Oggi tra attività notturne e diurne sono impiegate 400 persone per sanificare i 1600 mezzi e tutte le 113 stazioni della rete metropolitana. In più già da fine agosto ATM ha dotato tutte le stazioni delle quattro linee metropolitane di distributori di gel igienizzante per le mani e da lunedì 14 settembre tutti i 100 filobus della linea 90-91 saranno dotati di dispenser di gel 3 per ogni veicolo in corrispondenza di porte e con validatrici. Rimarrà infine sempre obbligatorio l'utilizzo della mascherina infermata all'interno delle stazioni e in tutti gli spazi comuni.